Ben trovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi vedremo come inserire sottotitoli in Adobe Premiere Pro con pochi click, nuova funzione presente dal 2017-2018 circa di anno in anno sempre perfezionata e oggi vedremo come applicarla alle nostre clip video Iniziamo subito! La prima cosa da fare per inserire dei sottotitoli in Premiere Pro è inserire un elemento sottotitoli Come fare? Clicca col tasto destro nel pannello progetto andare alla voce nuovo elemento e scegliere la voce sottotitoli Premiere ci chiede che tipologia di sottotitoli vogliamo creare Ora qui servirebbe probabilmente una lezione molto più lunga per affrontare questo tema quello che vi basti sapere è che esistono diverse tipologie di sottotitoli diversi standard per meglio dire quello più utilizzato soprattutto se dovete lavorare con altre persone o dovete distribuire il vostro contenuto su internet sono i sottotitoli aperti che permettono in Premiere Pro di modificare la dimensione del font e altre caratteristiche grafiche che in altri standard è difficile andare a modificare clicchiamo quindi sottotitoli aperti la velocità base temporale deve essere identica a quella della nostra sequenza così come anche le impostazioni del video ho realizzato un video in 720p quindi 1280x720 lascio tutto così com'è e clicco su ok immediatamente Premiere crea un nuovo elemento che apparentemente è vuoto non c'è assolutamente niente al suo interno se non una scritta presente di default faccio doppio clic su questo elemento e viene aperto un nuovo pannello pannello sottotitoli bene che cosa è questo pannello e cosa ci permette di fare come potete vedere abbiamo sostanzialmente la possibilità di scrivere il contenuto dei nostri sottotitoli per esempio ciao come stai potrebbe essere una prima conversazione che va dal secondo dal frame 0 fino al secondo 0300 posso aggiungere un altro sottotitolo cliccando sul più e magari c'è la risposta bene grazie e tu e così via queste operazioni se andiamo ad analizzare la nostra timeline generano nella clip sottotitoli che abbiamo appena creato delle sottoclip via eccole qua sono gli elementi che compongono il testo che noi stavamo inserendo prima nel pannello sottotitoli quindi adesso prendiamo la clip che abbiamo appena generato l'elemento sottotitoli lo andiamo ad inserire nella timeline se non l'abbiamo già fatto eccolo qui e andiamo a sincronizzare l'audio con i nostri sottotitoli quindi per esempio ipotizziamo che le persone stanno parlando vogliamo mettere i sottotitoli ecco qui la persona risponde magari risponde un po' dopo quindi io prendo il secondo sottotitolo lo sposto un pochettino più avanti ed ecco quello che accade molti si domanderanno come fare per modificare le caratteristiche grafiche del sottotitolo è molto semplice torniamo nel pannello sottotitoli selezioniamo tutti i sottotitoli di cui vogliamo modificare la grafica e se guardate con attenzione abbiamo la possibilità di chiaramente rimuovere il colore di sfondo il colore di sfondo di default è nero è solido al 100% noi lo abbassiamo allo 0% e vedete che automaticamente il colore di sfondo va via possiamo voler dare un po' più di pesantezza al nostro testo quindi piuttosto che un area regular vogliamo utilizzare magari un bold e magari vogliamo farlo un po' più grande per esempio 40 pixel ed ecco il risultato abbiamo il nostro testo un pochettino più grande soprattutto in versione bold potete giocare con questi parametri per personalizzare il vostro sottotitolo quando andate ad esportare la vostra clip CTRL M dovete assicurarvi per poter esportare anche il vostro sottotitolo che nella tab sottotitoli sia attiva la voce che ho evidenziato masterizza sottotitoli nel video in questo modo i sottotitoli vengono stampati nel video se diversamente vogliamo semplicemente generare un file SRT magari da caricare su YouTube o da distribuire insieme al video originale in maniera tale che una persona possa scegliere se vedere i sottotitoli o non vederli basta selezionare l'elemento, l'oggetto, sottotitoli questo che abbiamo appena creato andare nel menu file cercare la voce esporta e ancora una volta cercare sottotitoli clicco su ok lo chiamo sottotitoli clicco su salva e il mio file SRT è stato esportato termina qui anche oggi questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividetelo con i vostri amici iscrivetevi a questo canale YouTube se volete richiedere dei tutorial su misura per voi tutorialchiocciola fabioambrosi.it e se volete se vi fa piacere cercatemi su Facebook la pagina su cui mettere un bel like è Fabio Ambrosi grazie e al prossimo mini tutorial ciao 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 ciao